Oggi brava eh? E dopo la palestra sono venuta qui nel mio centro, nel mio centro che adoro follemente e la mia amichetta vi faccio vedere. Ecco qui, aperta upli, che cos'è tesoro questo macchinario? C'è uno degli ultrasuoni con la radiofrequenza, che in questo caso stiamo tonificando, ma con questo macchinario andiamo a trattare anche le ripositoriali freddizzate. Mi adoro. E adesso facciamo l'endosfera, che amo profondamente. Questo macchinario l'ho scoperto a Napoli, ed è stato amore. Quindi, Chiapponi, non vi temo.